Mi chiamo Eugenio Lafaci, faccio parte del Track Factory Racing, sono appena arrivato in squadra, sono giovane e adesso è normale che mi devo dare l'affare per la squadra. Sicuramente in una tappa normale si bruciano dalle 3.000 alle 4.000 calorie e ci sono anche tappe che arrivi a bruciare anche 5.000 calorie. Subito dopo la gara si alimenta ancora con un po' di pasta, riso, un po' di frutta e poi si tira a cena e nel frattempo si fanno i massaggi. È il momento più rilassante della giornata in cui ci si confida anche con il nostro massaggiatore su come è andata la gara, su quello che si è provato, su come si stava. Dopo dipende anche dal rumore perché non è che arrivano contenti, c'è il momento in cui arrivano e non sono contenti quindi si confidano sempre, però quando si fanno e si fidano. Ci sono certi atleti che invece preferiscono ascoltare la musica, dormire e rilassarsi completamente. Mi piace molto usare Facebook o Twitter come mezzo anche per aggiornare tutte le persone che mi seguono e che credono in me. Con il papà, la mamma si usa il telefono, ci si chiama o con Skype o con FaceTime e si cerca comunque di stare sempre in contatto. Grazie a tutti!